Ciao a tutti ragazzi al vostro mascarato, ben ritrovati anche oggi qui sul mio canale, nuovo video unboxing Tema Myro Accademia come potete vedere, ma prima di iniziare, sigla! Eccolo qui l'ultimo arrivo, tema come vi dicevo prima Myro Accademia, marca Kotobukiya, serie Artfix J, ovviamente scala 1-8, prepanted figure Il protagonista è Ox, come potete vedere qui sulla scatola, e qua ovviamente vediamo la raffigurazione del personaggio La scatola ragazzi è pressoché simile alle altre figure di questa serie, ovviamente le varie scritte colorate è la stampa del nostro protagonista Questa è la parte di dietro, altra parte laterale E poi ovviamente come sempre questa è la parte di sopra e questa è la parte di sotto Ma non perdiamo tempo e vediamo direttamente la figure Eccolo qui il nostro Ox, appena unboxato ragazzi, devo essere sincero, la figure è gigantesca ed imponente Fa davvero un bello effetto a guardarlo così da lontano praticamente, però ha i suoi piccoli difetti Intanto vi faccio come al solito una breve panoramica della figure sperando che non crolla Eccola qua E prima di passare a farvela diciamo vedere nel dettaglio vi faccio vedere l'altro viso che dà in dotazione Kotobukiya Eccolo qua Che è praticamente identico a quello originale, cambia un pochettino la posa della bocca Ragazzi vi ripeto che è identico praticamente, quindi non c'è motivo di farvelo vedere montato Ora comunque ve la faccio vedere nel dettaglio Eccola qui che la andiamo a inquadrare nel dettaglio Ovviamente vi ripeto ragazzi, la figure è imponente, mastodontica e dà davvero un bel effetto Soprattutto per la posa e la dinamicità della figure Però ripeto, visto che è praticamente la prima che ha subito il sovrapprezzo delle Kotobukiya Io penso che non sia giusto per quello che comunque sia per come è fatta la figure Pagarle così care onestamente al momento Visto che ha pressoché la stessa fattura di All Might che è l'ultima Koto che era uscita di questa serie Che ho preso io È praticamente fatto uguale Anzi, essere onesto per il tipo di colore che è il personaggio Sfigura un pochettino perché non rende giustizia al painting ottimo che comunque sia fa Kotobukiya Comunque partiamo dalla base che è fatta rispetto alle altre ovviamente meglio Anche il colorito, il painting è più che colorito Però è sempre comunque sia un colore abbastanza grezzo che Kotobukiya dà alle basi Comunque sostiene abbastanza bene la figure Il painting è sempre lucido In questi particolari, come vi dicevo il colore del personaggio del vestito non rende giustizia alla figure Perché è tutto praticamente lo stesso colore quindi non ci sono sfumature eccezionali da far notare Il painting diventa un pochettino più opaco quando noi andiamo a visionare i guanti di Ox e i capelli Che a questi ragazzi devo dire che rendono abbastanza giustizia alla figure Ci sono parecchie sfumature sia nei capelli che nei guanti anche se dal video non si direbbe Qui c'è il viso che ve lo faccio anche vedere meglio Alla luce Come potete vedere è pressoché identico all'altro Solo cambia un pochettino l'espressione della bocca E ovviamente qua c'ha gli occhiali che rendono davvero giustizia alla figure Ovviamente la fedeltà del personaggio Danno in dotazione due tipi di cuffie Una per poter attaccare ovviamente gli occhiali e l'altra no Ovviamente si stacca qui la faccia con i capelli Ecco qua Stacca questo pezzo e si cambia E poi passo ovviamente alle ali e alla spada di piume Che anche qui a essere onesto sono realizzate in maniera abbastanza grezza Sia la scultura che il painting Anche se ripeto ragazzi Sono veramente imponenti E rendono la figura abbastanza scenica Ripeto la figura è sicuramente di valore Per quanto riguarda me È in scala con tutte le altre cotobuchia L'unica pecca diciamo è che è costata leggermente in più rispetto Soprattutto a All Might che era l'ultima che aveva avuto il sovrapprezzo praticamente Adesso ovviamente ve la metterò a panagone con All Might Ma prima vi faccio fare di nuovo una piccola panoramica Nel dettaglio della figure Che ripeto se non fosse costata più del normale Secondo me poteva anche andare Ovviamente ah ecco Difettucci che vi faccio notare sono Praticamente tutte le attaccature Sia del giaccone Riusciamo a mettere a fuoco vedete Ci sono molte giunture nella figure Che realmente per quello che costa Non dovrebbero neanche vedersi Vedete Qui nel giaccone le Diciamo il piumaggio bianco Non ha per il resto piccole sbavature e imperfezioni Ma si mantiene abbastanza bella Figura alta circa 42 cm Ovviamente ora vi ripeto ve la metto a paragone con All Might Che Già era abbastanza imponente per la serie Un secondo solo Eccola qui messa a paragone con All Might Come potete vedere L'altezza si nota e si vede Però il personaggio è perfettamente in scala con All Might Vedete le dimensioni di All Might e le dimensioni di Ox Come vi dicevo Vi faccio il paragone sulla base Come potete vedere sembra simile Ma ragazzi quella di Ox è fatta nettamente meglio Soprattutto il painting E ovviamente alla disposizione delle rocce Una classica basetta piatta Che c'è nelle vecchie Per quanto riguarda la qualità ragazzi della figure Ripeto è praticamente identica Anche il painting Solo che ovviamente i colori di All Might rendono di più la figure Bella perché Il blu, il rosso e il bianco comunque si aspiccano di più Rispetto a quelle Caramello che c'è praticamente Ox nella Nella giacca e per tutto il resto Ripeto peccato ragazzi perché se fosse stata Qualcosina in meno per quanto riguarda il prezzo La figure l'avrei consigliata praticamente a tutti Ma in questo caso Conviene consigliarla soltanto a chi ha la cifra Da poter spendere Ovviamente a chi segue La serie Gotobukiya di Miro Accademia Per questo per me la figura ovviamente è abbastanza valida Visto che Segue in linea praticamente le altre Piccola breve panoramica All Might E poi ovviamente andremo a chiudere Ho anche All Might Peccato che il viso non è fedelissimo A quello che dovrebbe essere Ma la figure per me resta eccezionale Ora ultima panoramica e chiudiamo Eccola qui come promesso L'ultima panoramica del nostro Ox Ricordo Gotobukiya a scala 1 a 8 Serie Artfix J Miro Accademia ovviamente l'anima Da qui è presa la figure Ripeto il rapporto qualità prezzo Sicuramente non ottimo Perché comunque sia è costata Tanto rispetto alle vecchie Però ragazzi ripeto Per come colleziono io Penso che sia ancora il miglior esemplare Sul mercato Soprattutto se costasse qualcosina in meno Imponente Abbastanza dinamica Rende bene Soprattutto vista così da lontano E poi magari si perde Da vicino in qualche dettaglio Che Sicuramente Gotobukiya poteva fare meglio Quindi Non è il miglior pezzo Diciamo della serie Fatto da Gotobukiya Però La ritengo ancora valida E niente ragazzi Come sempre Vi ringrazio per aver visto il video Mi invito a iscrivervi al canale E attivare la campanella Dal nostro Hox è tutto Anche da Mascarato Al prossimo video Anche da Mascarato